Ciccio Graziosi e c'è poca capacità nel ragionare, nel pensare e di trovare la strada per provare a portare a casa il risultato. Logicamente io faccio l'allenatore di questi ragazzi, durante la settimana non ci stiamo riuscendo e logicamente la partita è una conseguenza dell'allenamento. Quindi colpa mia, andiamo avanti e alla prossima. Adesso ne abbiamo due in casa e quindi il problema speriamo che non esiste. La sensazione è che questa sera l'inerzia non sia mai stata la nostra parte, che bisogna sempre sperare nell'errore altrui, questo non è sicuramente un buon segnale. Ma più che altro ti dico, ecco perché ti dico mi assumo la responsabilità, non leggiamo la partita, non capiamo quello che c'è da fare in ogni singolo momento dell'incontro. Cioè in dei momenti magari spingiamo facendo degli errori banali, in altri momenti invece dove non serve spingere magari non spingiamo e quindi via, dobbiamo abituarci. Io capisco che in allenamento per noi è complicato riportare queste situazioni, bisogna che impariamo da queste esperienze ad allenarci giocando. Del resto la passata stagione sapete come è andata, abbiamo dominato il campionato senza mai problemi, senza mai difficoltà e poi è andata come è andata. Quest'anno via, speriamo che queste sconfitte ci facciano capire che le partite vanno vissute sul campo e vanno vissute punto a punto e ogni partita è differente e oltretutto la partita non è mai uguale a quella che purtroppo si prepara il giovedì, venerdì e sabato perché l'avversario dall'altra parte fa di tutto per metterti in difficoltà. Quindi via, lavoriamo con calma, con fiducia e ti dico adesso ne affrontiamo due in casa e quindi speriamo che il problema non sussista. E infatti proprio questo, guardiamo oltre, il fattore casalingo può aiutarci in questo momento, avremo due impegni comunque molto molto difficili. Allora, gli impegni sono veramente tosti, difficili perché incontreremo la prossima motta che è una squadra che non ha più nulla in pratica da perdere, tutto da guadagnare, sono ragazzi giovani, stanno giocando una buona pallovolo, quindi vedrete, verranno a Cisano per fare il colpaccio, quindi ci sarà da sudare le sette camicie. Poi abbiamo il derby con Brescia e quindi quello si commenta da solo. Però ti dico, adesso al di là di in casa, fuori, fuori in casa, dobbiamo imparare a leggere le partite, ma a volte anch'io, a intestardirci su alcune situazioni che magari abbiamo preparato e poi magari in campo non si verificano, bisogna avere la capacità e la bravura di cambiare velocemente.